Buongiorno telespettatori, sono qua a presentarvi il Village Offroad Valenza, un autodromo ormai permanente di off-road dove noi abbiamo le nostre tre piste principali che sono la pista di trial per i fuoristrada, un cartodromo di 900 metri professionale dove facciamo girare i nostri bellissimi kart cross e poi abbiamo una pista dedicata ai più piccoli per i mini quad dove tutti i più piccoli possono inserirsi al fuoristrada, comunque alla guida dei mezzi. Quindi noi oggi diamo una presentazione di quello che è il fuoristrada a tutti e vi invitiamo a tutti i weekend dell'anno perché noi siamo aperti dalle 9 del mattino fino alle 18, tutti i weekend dell'anno e ad agosto dal giovedì alla domenica consecutivi. Quindi niente, che dire, vi aspettiamo numerosi e venite a trovarci. A Valenza Po, Alessandria. Grazie. A Valenza Po, Alessandria. Grazie. Grazie a tutti. A Valenza Po, Alessandria. Grazie a tutti.